C'è una soluzione molto agevole, c'è una via d'uscita che è fra l'altro inserita anche all'interno della risoluzione votata all'unanimità a prima firma Giorgetti, quella votata alla Camera, cioè la compensazione fra i debiti della pubblica amministrazione e i crediti che le imprese vantano. Quindi in sostanza è una strada maestra per dare dei tempi certi con le scadenze fiscali di poter compensare questo enorme debito che la pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni ha e mettere effettivamente e in maniera certa la liquidità nel sistema entro pochi mesi.